Renato Zero contro Achille Lauro è una questione abbastanza semplice diciamo da spiegare perché è il classico riflesso di chi rivede se stesso anni prima e non gli va bene con delle grandi differenze Renato Zero non ha torto quando dice io con le piume facevo la rivoluzione perché è vero, erano altri tempi, era un'altra questione, era un'altra prospettiva e era tutta un'altra questione di stile Renato Zero quando fa la donna fa la donna non fa l'uomo che gioca a fare la donna Achille Lauro per me è un etero che sta sperimentando un mondo artistico, stilistico che non gli appartiene non ho dubbi su questo e non ho alcun dubbio sulla sua sessualità non che mi interessi però qui si parla di arte, di stile quando vedi Renato Zero, quando vedi Malgioglio tu ti rendi conto che non è una cosa forzata quello che loro portano l'eccentricismo che portano, non è forzato questo è poco ma sicuro, io non so se voi avete fatto caso alla prima serata di Sanremo l'anno scorso cioè stiamo parlando dell'Ariston dove tutti sono pompati a mille Cristiano Malgioglio che era semplicemente seduto in prima linea tu lo vedevi e ti rendevi conto cioè subito ti risaltava all'occhio ok dicevi micchia che stile sto ragazzo, sto ragazzo, sto signore e anche a livello di arte prodotta, di testi, di lirica insomma il livello è abbastanza differente Renato Zero è un pilastro della musica italiana ha scritto composizioni che rimarranno nella storia ed è dotato di una tecnica vocale da performer elevatissima che Achille Lauro si sogna ovviamente Achille Lauro è figlio dell'epoca moderna e quindi di conseguenza anche il suo approccio alla performance non ha a che fare con gli standard, le regole a livello proprio di attitudine che c'erano una volta in cui comunque dovevi meritartela la performance anche da un punto di vista tecnico oltre che dai numeri che avevi alle spalle e dai dischi che vendevi oggi invece nel momento in cui vendi dischi ovvero fai stream che è ben diverso dal vendere dischi può succedere che ti ritrovi a calcare palchi importanti a fare performance ma con una dote tecnica limitante ciò non toglie che Renato Zero abbia sbagliato a comportarsi in questo modo e che si stia comportando da rosicone fa ridere perché le persone che fanno i discorsi che hanno fatto Renato Zero sono magari lui, gente cioè chi fa i tripli album chi è che sta facendo un triplo album ad oggi nell'epoca dei singoli nell'epoca dello stream rapido chi sta cercando di camuffare di prendere il più click possibile della sua fanbase mi viene in mente Grignani mi viene in mente lo stesso Vacca che comunque è un'altra categoria tipologia di mondo però comunque è uno che ci sta da parecchio tempo c'è una bella carriera alle spalle e che comunque vuole fare ha bisogno di click perché comunque c'è stato un cambio generazionale lui era il numero uno di MySpace e poi lui era il numero insomma è stato dietro Fabi Fibra e poi è diventato indipendente ha fatto tutto da solo ed è difficile essere un artista indipendente a quell'età con un genere come il rap che è rivolto ai giovani bisogna essere sempre giovani ecco non che Vacca faccia un triplo album però disse in un'intervista quest'anno voglio fare tre album eccetera eccetera vabbè ho tirato fuori diversi artisti che non c'entrano nulla però quello che voglio far capire è che quando hai una carriera alle spalle e devi comunque lanciare nuovi progetti non puoi ragionare come i ragazzi che sono in ascesa devi fare conto alla tua fanbase e quindi anche un po' di polemica ti fa bene se così vogliamo per questo motivo Renato Zero ha fatto questo discorso ed è normale che veda Achille Lauro e pensi oddio questo ragazzo mi vuole compiare mi vuole fare le scarpe è normale ecco però quello che voglio dire è che c'è un sacco di gente che dice ah Renato Zero lui però è così grazioso come persona Renato Zero come persona è risaputo che ha fatto un sacco di stronzate ha fatto un sacco di cose di cui non dovrebbe andar fiero e lui lo sa bene a partire da tanti soldi di donazioni presi per progetti che non sono stati realizzati per poi concludere a spettacoli e roba che strapagati che lui poi ha realizzato un po' a modo suo rendendo i fan un po' scontenti insomma ma anche dal punto di vista di marketing ha fatto un disco bellissimo l'ultimo disco che ha fatto prima della grande raccolta un po' più recente insomma ha fatto un disco bellissimo dove c'era la canzone artista dove vai insomma quello lì quello di Chiedi per intenderci e ha tirato fuori a parte Chiedi i singoli più brutti c'erano delle canzoni bellissime che sono state oscurate ecco anche a livello di di marketing sono tanti errori dietro la carriera di determinati artisti che comunque non puoi dirgli nulla perché sei Renato Zero ma ha maggior ragione perché sei Renato Zero devi farti i cazzi tuoi e non e non attaccare giovani ragazzi che vanno per la loro strada e che comunque hanno successo però c'è da dire che ha ragione ciò che dice Renato Zero non è sbagliato è sbagliato il fatto che attacchi liberamente altri artisti ma ciò che dice è vero Achille Lauro non ha nulla di innovativo non ha nulla di estremo non ha nulla di estremo sì non ha nulla di estremamente vero è semplicemente una controfigura di se stesso in questo momento e che secondo me appena gli passerà questa fissa della drag queen cambierà e tornerà a fare magari non roba di strada ma comunque roba diversa e c'è anche da dire che Renato Zero dice io raccontavo le periferie lui no ecco se è da vedere Achille Lauro ha fatto tre dischi in cui parla esclusivamente di periferia quindi anche questo ti fa capire come i vari artisti tra di loro hanno una visione distorta di loro stessi Achille Lauro ha fatto tre dischi street rap in cui ha parlato di droga periferia cioè quando mai Renato Zero ha raccontato la periferia lo ha fatto nel sottotesto ha raccontato le emozioni della gente di periferia ma non la periferia quindi anche qui si va in un argomento un po' distorto della realtà Jay Axe in frattempo difende Achille Lauro difende i giovani dicendo c'è certe cose di fanno gli americani le accettiamo se no no ma infatti c'è questo idolatrare degli americani qui in Italia che io non capisco non mi piace non rispetto perché non è che se è fatto in America è meglio siamo italiani se si tratta di stile soprattutto se si parla di hip hop è chiaro che gli americani sono un passo avanti e noi siamo dietro ma noi abbiamo altre qualità che secondo me andrebbero valorizzate lo stesso Renato Zero ha fatto canzoni bellissime da un punto di vista di testo e di interpretazione famose in tutto il mondo che ci invidiano in tutto il mondo noi magari tendiamo a copiare gli americani se si parla soprattutto di hip hop perché comunque è quello il genere che va per lo più in America assurdo pensarlo fino a vent'anni fa quindi ogni paese ha la sua skills è chiaro che se dobbiamo parlare che la musica hip hop trap deve essere per lo più stilosa perché a livello di contenuti non vale niente allora chiaramente ci ispiriamo agli americani ma anche su sto discorso che poi su Rai 1 ho visto per una volta che mi sveglio prima di mezzogiorno accendo Rai 1 e trovo una polemica in corso contro il rap contro la trap con questi vecchi che attaccano io non dico che non abbiano ragione hanno ragione quando dicono che questa musica sta perdendo di valore ma non andiamo a prendere solo i casi degli imbecilli andiamo a prendere anche altri casi di gente che comunque questa roba la fa bene andiamo a prendere i brani migliori di Achille Lauro non i brani peggiori quelli lì che magari sono buttati lì o altrimenti ho visto che passava in slow motion il testo di venerdì 17 di Fibra un brano del 2004 un pezzo pazzesco che sì è violento ma era messo nell'underground era inserito in quel contesto era lo sfogo di un giovane ragazzo che non aveva ancora avuto successo è che si stava sfogando al microfono facendo la rivoluzione del rap se permettete c'è di gusto c'è di stile c'è di livello è un po' diverso da tutto quello che invece sono i rapper di oggi oppure Valerio Scano che si lamentava che Fabri Fibra aveva fatto questa canzone in cui lo insultava dicendo che c'era stato un amplesso beh è stato un processo ha pagato 20.000 euro e il buon Fibra ti stava prendendo per culo ma perché? perché Valerio Scano è un interprete è un personaggio che non ha nulla a che fare con l'ambiente hip hop e l'ambiente ma real della musica lui è proprio il classico prodotto è quello che si criticava non era una critica all'omosessualità di Valerio Scano era una metafora per criticare il fatto che quello è un prodottino creato dalle major dal talent c'era un discorso sociale dietro che non è stato ben capito poi è chiaro che un attacco del genere poi vieni correlato e paghi la multa però è chiaro che l'ambiente hip hop comunque te lo canta live senza problemi quindi l'importanza di contestualizzare tornando a noi Renato Zero non riesce più a vendere è passato il tempo dai suoi inizi oggi nel mondo degli stream i signori che comprano i suoi dischi non sanno neanche cos'è Spotify e quindi fa fatica a rilanciarsi e di conseguenza rosica un pochino e attacca il buon Achille il discorso è che Renato Zero dovrebbe star tranquillo perché è un grande personaggio indimenticabile e ha fatto la storia il fatto è che ogni tanto questi artisti non dico che dovrebbero uscire di scena però bisogna accettare il fatto che il mondo va per un'altra strada e ognuno deve seguire il suo percorso nessuno si permetterà mai di paragonare Achille Lauro a Renato Zero perché Renato Zero è un colosso Achille Lauro è diventato un prodotto era un colosso nell'hip hop moderno e adesso invece è un personaggio di passaggio quindi di cosa stiamo parlando deve dimostrare ancora se è un colosso Achille Lauro deve scriverlo i migliori anni della nostra vita ok i pezzi che non passeranno mai di moda e ora invece voglio raccontarvi un ultimo aneddoto prima di chiudere visto che adesso sto facendo dei podcast anche più lunghi perché ho adesso un microfono nuovo in camera quindi ci saranno diciamo più casini si sentiranno dei sottofondi del cazzo adesso mi sto anche trasferendo e quindi non avrò lo studio avrò una camera in cui parlerò quindi c'è più casino però c'è anche più tempo più contenuto e più qualità a livello vocale perché il microfono è migliore proprio per il podcasting quello che voglio dire è che insomma c'era questa scena che mi ha raccontato mio padre che suonava in un festival in cui c'era anche Renato Zero e praticamente risbuca Renato Zero che conosceva il batterista con la quale stava suonando mio padre entra in camerino e gli dice ciao tu credi alla fortuna e lui si si alza si sfascia no aspetta si cala le braghe e dice allora pesca una palla ecco questo è Renato Zero un simpaticone fece ridere tutti e non è il classico personaggio omosessuale represso che attacca e tutto è il classico personaggio omosessuale a cui tutti vogliono bene perché è eccentricamente simpatico sa fare ironia autoironia e ha quella grazia diciamo che deve avere un personaggio che poi vuole spingere un certo mondo cosa che non ha Achille perché il discorso principale è questo gente come Renato gente come Malgioglio ma altri tanti altri personaggi portano loro stessi Achille Lauro non mi piace ultimamente perché sta portando una controfigura di sé e secondo me nell'arte questo discorso è un discorso sempre sbagliato perché bisogna arrivare sempre alla veridicità di quello che si è